Ciao a tutti ragazzi, oggi è Match Day, ma soprattutto permettetelo prima di iniziare quella che sarà l'analisi preliminare della partita, il compleanno di Alessandro Del Piero. Oggi compie 10, più 10, più 10, più 10, più 10. 50 anni. Il capitano compie 50 anni. Tanti auguri ad Alessandro Del Piero, tanti tanti auguri. Io sono stato presente a una partita il giorno del suo compleanno, o forse il giorno dopo il suo compleanno. Eravamo a Verona, al Bentegodi, contro il Chievo. Fece gol su punizione, mi pare, Alessandro Del Piero. Più Iacquinta, Juventus fece due gol, mi pare, con loro due. Ed è iconico quel giorno, perché non solo ero allo stadio per il compleanno di Del Piero per festeggiare Alessandro Del Piero, oltre che la Juventus, ma il giorno prima avevo realizzato il mio primo gol in assoluto, avevo 14-15 anni, avevo iniziato a giocare a calcio, o in quella stagione o in quella precedente, e avevo appena segnato il mio primo gol. Quindi ho sempre questo bel ricordo di Alessandro Del Piero, che nel giorno del suo compleanno fa gol, la Juve vince, io che avevo fatto gol, quindi tutto molto 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 bello. E adesso possiamo fare un passo avanti, lasciando da parte il passato ai ricordi, e concentrarci invece su quella che sarà la partita di oggi della Juventus, tra Juventus e Torino. Allora, mi sono tirato giù un po' di statistiche interessanti, che volevo condividere insieme a voi, per quanto riguarda gli avversari. Perché ieri poi abbiamo fatto la conferenza stampa, dove siamo andati ad analizzare tutto quello che hanno domandato i giornalisti, quelle che sono state le risposte di Tiago Motto, visto che vi è piaciuta molto, tra l'altro, il nuovo format della conferenza stampa, quindi andremo molto probabilmente a riproporre questa cosa qui, perché non ci sono stati problemi di copyright. Qualcuno mi ha detto, potevi informarti prima, ma ragazzi, vi spiego, non è così facile. Per la politica del fair use, io ovviamente potrei riutilizzare, dato che non sto prendendo e buttando online, ma sto interrompendo, aggiungendo del contenuto, aggiungendo delle opinioni, quindi sulla carta è tutto legale. Ma con YouTube non si sa mai, perché poi alla fine potrebbero rompere le scatole comunque e dovresti fare delle azioni per andare a contestare, anche se poi hai ragione e fra una settimana ti dicono sì, guarda, avevi ragione te, ma nel mentre non ti monetizzano il contenuto. Quindi ho fatto un tentativo, ma non perché non fossi informato, ma perché poi con YouTube bisogna sempre stare un pochettino attenti, perché ci sono dei bot che fanno delle verifiche, se poi richiedi l'azione di verifica manuale tramite un utente, ci vuole un po' più di tempo. Lascio da parte questa roba qui. Della partita ieri si era parlato poco, ne parliamo un po' di più oggi, che ci sono delle statistiche interessanti sul Toro. Intanto sono la peggior squadra in Serie A per recuperi effettuati. Questo già è un dato, anche perché solitamente, quando andiamo ad aspettarci un derby, cosa ci aspettiamo? Una partita molto maschia, una partita ad alta intensità, una partita con tanti falli. Ecco, loro sono la peggior squadra in Serie A per recupero palla. Quindi viene a sé pensare che potrebbe essere una partita un po' più morbida. Potrebbe, poi non è detto che sia così. Non solo, sono la peggior squadra in Serie A anche per un'altra caratteristica, e cioè per le parate. Sono la squadra che subisce più tiri che vanno verso la porta, dove il portiere poi va a impegnarsi. Ecco, questa è una statistica tosta, tosta, perché la Juventus, lo sappiamo, è una squadra che in questo momento sta facendo fatica a fare gol con regolarità e con continuità, un gran numero di gol. Questo potrebbe aiutare? Beh, il Torino ha subito 16 gol, che non sono pochi. Sono una delle squadre, non la squadra ovviamente, perché sono squadre che hanno subito anche 20, 18, 22 gol, però comunque una delle squadre che subisce gol con regolarità. Però significa anche che se ci sono tante squadre che hanno preso più gol, e il Torino è la squadra che effettua più parate, che dal punto di vista difensivo, magari anche per il fatto che ci sono pochi recuperi, quindi magari c'è poco filtro a centrocampo, non è raro andare a calciare in porta, non è raro concludere verso la porta del Torino, però magari se poi i gol non li prendono è perché in porta hanno un portiere interessante che riesce ad evitare. Quindi occhio ai miracoli del portiere, questa è un po' l'analisi che vado a fare unendo questi due dati. La terza statistica è che sono la seconda peggiore in Serie A per dribbling. Non significa niente, perché la peggiore squadra in Serie A per dribbling era e probabilmente sarà ancora l'Inter, quindi stiamo parlando di una squadra forte, una squadra che l'anno scorso è diventata campione d'Italia con delle pessime percentuali dal punto di vista dei dribbling. Vi do un altro dato, in netta contrapposizione, la Juve è invece la migliore squadra in Serie A per dribbling. Quindi avremo una squadra del Toro molto più quadrata, dove sarà difficile vedere un uno contro uno interessante e dall'altra invece la Juventus che su questi duelli individuali andrà a costruire la gara. Quindi questa è un po' la fotografia della partita che andiamo a fare. Una Juve che cercherà di saltare il Torino, cercherà di creare la superiorità numerica, il Torino invece che cercherà di compattarsi per non subire altri tiri verso lo specchio della porta, la Juventus che secondo me andrà a gestire le ripartenze anche con particolare intensità. E proprio da qui dobbiamo poi andare ad analizzare quella che è la formazione probabile della Juventus. Giovanni Albanese oggi non ci ha fornito la grafica. Peccato, l'altra volta, la settimana scorsa, abbiamo fatto i complimenti a Giovanni per questa cosa e lui di tutta risposta non ce la mette. Però ve la leggo, l'ha twittata. Perin, Savona, Gatti, Caluru, Cambiaso, Locatelli, Turam, Uacco, Benersil, Zblaovic. Allora, intanto Savona, convocato dalla Nazionale Maggiore, dove non sono stati convocati Locatelli, Gatti e Di Gregorio. Ma Savona sì. Complimenti, eh Nicolò, perché non solo conquistarsi la titolare della Juve, ma pure la convocazione di Nazionale Maggiore in questi primi due mesi di Serie A. Beh, complimenti, complimenti. È l'unica cosa che mi viene in mente di dire, veramente bravo. Davvero bravo, bravo, bravo. Porta Perin, che mi aspettavo in Champions, invece torna a titolare all'interno di questo derby della mole. Derby della mole molto importante per la Juve, perché non fare tre punti oggi sarebbe deleterio. Deleterio sarebbe. Al netto anche di una prestazione molto buona che abbiamo avuto in Champions, dove non siamo riusciti a prendere il bottino pieno. Se penso le due prestazioni, le ultime due della Juve, Parma e Lille, sono due prestazioni e gli antipodi, perché col Parma a me la Juve non è piaciuta particolarmente. Dal punto di vista difensivo, men che meno. E invece mi è piaciuta molto di più, anche se non sono le ultime due, ma due delle ultime due, mi è piaciuta molto di più la Juventus vista con il Lille, che ha fatto una gran prestazione, ma alla fine ha pareggiato uguale. Quindi noi dobbiamo cercare di fare una partita stile Lille perché, come dice Tiago Motta, giocando le partite in quel modo ci sono più probabilità, più possibilità di vittoria. A centrocampo confermanza, in difesa confermata la coppia difensiva, Cambiaso che shifta la posizione perché non gioca a Gabal, a centrocampo confermato Locatelli e Turam. Questa credo che sia un'ottima mossa di Tiago Motta. Ho già fatto un'analisi proprio su Locatelli e Turam e la disposizione, la composizione del centrocampo che va a mutare il tipo di approccio che fa la Juventus alla gara per via delle caratteristiche molto differenti dei centrocampisti a disposizione di Tiago Motta, ma è la tipo terza gara consecutiva in cui Locatelli e Turam, forse anche quarta, non mi ricordo, in cui Locatelli e Turam partono entrambi davanti alla difesa e davanti al loro Cobb Mainers. Segno che Tiago Motta a centrocampo ha trovato questa quadra e credo che sia una quadra molto interessante e condivido con lui perché Locatelli e Turam riescono ad andare tanto equilibrio in tutte e due le fasi, sia difensiva, sia offensiva quando andiamo in ripartenza e Cobb Mainers è quello che fa girare più la squadra in assoluto di tutti. Davanti Ildis confermato a sinistra, non abbiamo con Sessao bensì Timothy Weah che ritrova la titolarità e di punta manco a dirlo Dusan Vlaovic perché ci mancherebbe altro che non vada a giocare Vlaovic. Questa è la formazione, formazione che devo dirvi la verità mi piace abbastanza, abbiamo anche la possibilità poi di utilizzare dalla panchina alcuni giocatori importanti che possono darci una mano anche se abbiamo delle assenze importanti. Si aggiunge anche quella di Astic che poteva essere un giocatore utile per questa partita per dare una botta in più di quei giocatori che entrano e cercano di spaccare una partita che dovesse essere particolarmente bloccata. Io non so se questa sarà una partita particolarmente bloccata. La sensazione che ho è che possa comunque sbloccarsi anche già all'interno del primo tempo nei primi minuti del secondo. Mi sa che sarà più una partita difficile da chiudere se devo fare un pronostico. Una partita di cui poi fai fatica fino all'ultimo perché loro con i piazzati e le ripartenze possano trovare delle occasioni. Questa è un po' la partita che mi aspetto. Vorrei aprire un'altra tematica ma eventualmente la faremo durante la pausa nazionale. Ve l'anticipo brevemente perché Niccolò Fagioli è un po' che non lo vediamo nei titolari è un po' che non lo vediamo anche subentrare proprio in generale con un buon spezzone di gara. Secondo voi a Fagioli è successo qualcosa? Tiago Motta in questo momento non lo vede come un giocatore affidabile o c'è qualcos'altro? Sono curioso di sapere un po' la vostra opinione qui sotto nei commenti e sapere se anche a voi è venuta in mente questa cosa. Signori questo è quanto noi ci vediamo questa sera su Twitch per la live reaction e poi ovviamente qui su YouTube per tutti i contenuti post partita come facciamo di solito. Ciao a tutti forza Juve e tanti auguri Alessandro Del Piero apertura e chiusura del video dedicato al capitano.